... Martedì 5 gennaio, Santa Amelia, è il quinto giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 360 al termine. Il sole sorge alle 7.50 e tramonta alle 16.42, la luna si leva alle 23.56 e tramonta alle 11.42. I provveditori alle Biave fanno un rapporto al Senato relativo al consumo di riso, tanto tra le classi abbienti che tra il popolino. Nel XVI secolo il riso era diventato un ingrediente base per l'alimentazione e si suppone che a quell'epoca risalga l'invenzione dei risi e bisi, piatto principe veneziano. Le previsioni per domani. Cielo parzialmente nuvoloso, nuvoloso fino al mattino e molto nuvoloso coperto dal pomeriggio. Probabilità in aumento di precipitazioni dal pomeriggio, quando saranno estese e frequenti, con limite della neve in abbassamento fino anche a quote collinari. Temperature in calo rispetto al giorno precedente. A presto!